Meno bus in centro, meno parcheggi, difficoltà economiche per i commercianti e un comune che prima pedonalizza poi riqualifica. Sono queste, in sintesi, le frecce nella faretra di Mario Lavatelli e Vincenzo Latorraca, con le quali i due avvocati tenteranno tra pochi giorni l'ultimo assalto alla zona traffico limitato di Como. L'estensione della ZTL alle aree di Piazza Volta e Piazza Roma ha portato, come noto, a diverse manifestazioni di protesta in città, confluite nel comitato Como di tutti. Dopo una prima sconfitta al Tar, gli avvocati del comitato chiedono nuovamente ai giudici amministrativi di revocare l'ampliamento della zona traffico limitato rivolgendosi al Consiglio di Stato. L'appuntamento con l'Aula è fissato per il 26 agosto. Nel lungo e dettagliato ricorso, gli avvocati contestano innanzitutto il metodo del comune di Como, che prima ha esteso la ZTL, poi ha bandito un concorso di progettazione per la riqualificazione delle piazze. Un'inversione eclatante, scrive Lavatelli, che tra l'altro è anche presidente dell'associazione Comasca Utenti della Strada. Dopodiché si sottolinea che l'estensione del 25% dell'area pedonale non era stata preceduta da alcun accordo con ASF, la società che gestisce il trasporto pubblico su gomma a Como. Questo avrebbe comportato una riduzione delle corse e un allontanamento dei pullman dal centro con lo spostamento del capolinea per la pedonalizzazione dei porticiplinio. Infine, gli affari dei negozi. Lavatelli porta i dati di Union Camere che evidenziano un andamento negativo dei piccoli esercizi comaschi. Quindi, sull'evidente crisi dei negozi, scrive l'avvocato, si è innestato l'ulteriore effetto negativo della diminuita frequentazione della città murata.